Evade dai domiciliari ma si fa notare per il suo fare sospetto e viene riarrestato dai carabinieri. Il fatto è accaduto a San Calogero dove l'uomo di origine rosarnese è stato notato dai militari dell'arma mentre era a bordo di un'auto insieme ad un'altra persona. Il fare sospetto dei due e soprattutto il controllo approfondito del territorio che hanno gli uomini della benemerita che avevano già notato l'auto che si aggirava con fare sospetto per San Calogero e dintorni ha fatto scattare l'operazione. Levaso e il suo complice, essendosi visti scoperti, hanno accelerato cercando di sfuggire all'inseguimento e far perdere le loro tracce, infilandosi addirittura a contromano in un'angusta via a senso unico. Qui il rosarnese, evaso dagli arresti domiciliari, ha abbandonato repentinamente il veicolo e dopo aver spinto un'anziana donna si è introdotto in casa sua cercando di nascondersi. A quel punto i carabinieri si sono divisi e i due fuggitivi sono stati bloccati, uno dentro casa della donna e uno lungo la via. Il rosarnese quindi è stato processato per direttissima per evasione, resistenza pubblico ufficiale e violazione del domicilio, quindi è stato ridisposto ai domiciliari, mentre il suo complice dovrà rispondere delle accuse di resistenza e procurate in osservanza di pena.